Laudetur Jesus Christus, Ave Maria Cari amici di Cooperatores Veritatis e cari fratelli nella fede, siamo finalmente giunti alla seconda parte dell'Identikit del Catto Progressista. Nella prima parte abbiamo cercato di spiegare, di illustrarvi come in realtà fin dal Vaticano II o meglio dal pontificato di Papa Giovanni XXIII abbiano preso possesso del governo della Chiesa i progressisti o neomodernisti ma quelli conservatori o quelli moderati. Mentre invece siccome comunque il progressismo moderato può frenare ma non può porre soluzione al progressismo in sé prima o poi sarebbe arrivato un Papa progressista radicale progressista cioè nel senso più pieno del termine come oggi viene inteso e cioè Papa Francesco. Mentre ovviamente non possiamo che riconoscere che comunque sia Giovanni Paolo II che Benetto XVI abbiano posto un freno abbiano trattenuto questa avanzata dell'apostasia di questo pensiero non cattolico all'interno della Chiesa che ormai è diventato maggioritario come previde un altro progressista moderato conservatore che fu Papa Paolo VI parlando con l'amico Jean Vuitton nel 1977. All'interno del canto XVI vi è questo pensiero non cattolico che al Papa Paolo VI lo stupiva e che forse un giorno sarebbe diventato maggioritario oggi purtroppo è diventato maggioritario ma non è il pensiero della Chiesa e non lo sarà mai disse Paolo VI e su questo ebbe ragione. Ricordando il fatto che purtroppo lui col suo progressismo conservatore o moderato comunque ne è stato uno dei responsabili di questa avanzata del pensiero non cattolico. Comunque tornando al nostro identikit del catto progressista come vi diciamo sempre nella prima parte useremo per spiegare chi è questo catto progressista gli studi e gli scritti di padre Julio Mainville argentino che è morto nel 1975 in circostanze tragiche ma questa è un'altra storia. Il libro più famoso di padre Julio Mainville che è un po' in un certo senso il suo testamento spirituale che racchiude un po' tutti i suoi studi è il libro Dalla cabana al progressismo che è stato recentemente tradotto in italiano e pubblicato dai tipi di FDF e può essere acquistato online. Mi consigliamo davvero di leggerlo. Ma già in vari scritti padre Mainville si occupò del progressismo studiandone e studiando le figure e il pensiero dei massimi espronenti progressisti all'interno del mondo cattolico in particolare il cattolico liberale francese Le Manet e l'umanista Jacques Maritain nonché il neo-darwiniano evoluzionista Teilhard de Chardin. Ma adesso concentriamoci in modo particolare su uno scritto del 1965 che padre Julio Mainville intitolò sul progressismo cristiano e che fu appunto pubblicato, mi aveva scritto in due puntate, per una rivista poco prima dell'ultima sessione del Concilio Vaticano II. In questo scritto padre Mainville cerca di spiegare quali sono gli errori del progressismo cristiano e cosa consiste questo progressismo cristiano e come si è sviluppato. Padre Mainville spiega subito una cosa fondamentale. Prima di tutto che quello del progressismo è un movimento che si può osservare nella Chiesa e che sostiene dottrine e attitudini che devono essere considerate come errori devazionisti avvertendo però che non tutti coloro che si definiscono progressisti devono essere qualificati in questo senso censurabile. Infatti ve ne sono alcuni che non conoscendo in pieno il contenuto del termine progressismo così come è propagandato oggi si definiscono progressisti ma chiedono solo un progresso legittimo e necessario della Chiesa. Quindi padre Mainville non ha assolutamente intenzione di fare un processo alle intenzioni e nemmeno noi faremo un processo alle intenzioni. La Chiesa condanna idee, errori, eresie, scismi e quando condanna le persone lo fa comunque per salvarle, per riammetterle. Questa condanna diventa eterna alla persona se la persona volerla, se la persona non vuole ravvedersi. La condanna è eterna all'errore, allo scisma, all'eresia ovviamente. Infatti per esempio, spiega padre Mainville il più famoso dei progressismi dell'epoca che era il telardismo e che sta tornando alla ribalta proprio in questi tempi ma il telardismo appunto non è che è una versione perché ne esistono altre manifestazioni del progressismo ma altrettanto censurabili. Ecco, in questo scritto sul progressismo cristiano padre Julio Mainville individua noi ne abbiamo contati dieci dell'errore del progressismo cristiano. Non tutti i progressisti riassumono in sé questi errori c'è chi ne ha uno, c'è chi ne ha l'altro o c'è chi ne ha tutti ma tutti, tutti i progressisti tutte le correnti, le deviazioni progressiste ne hanno uno in comune e lo diremo per ultimo. Allora, il primo errore che padre Mainville individua è il rifiuto del tomismo il rifiuto insomma della filosofia perenne del realismo tomista perché proprio i progressisti rifiutano la teologia cattolica in quanto tale viene chiamata con disprezzo la cosiddetta teologia romana mentre il pensiero di Sant'Ommaso la filosofia di Sant'Ommaso è proprio il ragionare cattolico vero e proprio. Il secondo errore è il rifiuto dell'autorità pontificia della curia romana in quanto tale anche se adesso Roma viene usata l'autorità di Roma viene usata proprio per distruggere la stessa autorità romana e proprio di questi giorni il fatto è evidente che una desacralizzazione del papato, dell'autorità romana porta a una super invece sacralizzazione del pontefice regnante del pontefice di turno che diviene uno di noi una star, un piaccione ovviamente ci riferiamo agli schiaffi dati da Papa Francesco a quella fedele cinese che voleva chiedergli aiuto per gli altri fedeli cinesi cristiani che stanno subendo ora anche con la complicità della Santa Sede la persecuzione comunista di Hong Kong. Il terzo errore è il rifiuto di Roma come centro della cristianità proprio il cattolicesimo romano il concetto di Roma di essere cattolici e romani bisogna invece tendere bisogna decentralizzare bisogna andare alle periferie questo scriveva Padre Mianville nel 1965 e poi siamo così giunti alla famosa espressione delle periferie esistenziali universalmente conosciute dal discorso che il cardinale Horge Mario Bergoglio tenne al conclave del 2013 conclave che poi lo elesse Papa il quarto errore è il falso comunismo che porta al sincretismo religioso all'indifenetismo il voler a tutti i costi cercare più quello unisce che quel che divide e abbiamo visto che questo porta al sincretismo all'indifenetismo il quinto errore è il minimalismo mariano testo di Padre Mianville nel 1975 siamo giunti nel 2019 a sapere che i titoli variari i dogmi mariani sono tonterias ha detto Papa Francesco il 12 dicembre del 2019 il sesto errore è una forma di neopelagianesimo anche se per Papa Francesco i pelagiani sono quelli che si sforzano di vivere secondo le leggi di Dio e della Chiesa arrivando dunque a negare il peccato originale se non a parole ma di fatto è l'inferno oggi ci sono strane teorie sull'inferno vedi Schildebeck Rane von Balthasar il settimo e l'ottavo errore sono collegati fra loro perché le pratiche spirituali individuali vengono squalificate non hanno più significato tant'è vero che c'erano cardinali vescovi al Vaticano II tra cui il primate del Belgio Suenes che credevano l'abolizione del breviario almeno di togliere l'obbligarietà di recitare il breviario perché il parroco il prete se hanno tante cose da fare non possono perdere tempo a pregare come se la preghiera fosse qualcosa di più e non fondamentale essenziale per il cristiano per il sacerdote in modo particolare l'ottavo errore essendo collegato il settimo è appunto il liturgismo comunitario oggi quanti sacerdoti siccome magari d'estate ci sono due o tre vecchiette alla messa non celebrano la messa perché non c'è il popolo adesso il sacerdote con il nuovo sordo misse presiede l'assemblea non dice messa ma presiede l'assemblea perché la messa la dice il popolo la preghiera eucaristica terza infatti cosa dice tuo padre continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'alto della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto il popolo offre il sacrificio al padre però è il sacerdote che invece offre il sacrificio al padre perché Cristo offre il suo sacrificio al padre e il sacerdote ministro di Cristo agisce proprio perso da Cristi andiamo avanti col non errore il non errore è il personalismo il personalismo che poi porta all'antropocentrismo il personalismo che pone la persona umana al centro o meglio pone al centro i diritti individuali o della comunità della persona umana ed ecco qui che si passa dall'insegnamento cattolico della tolleranza religiosa al insegnamento eterodosso conciliare della libertà religiosa ponendo l'errore e la verità sullo stesso piano quando invece sappiamo benissimo che non si può mettere una falsa religione allo stesso piano della vera religione che è la religione cattolica anche gli stati devono riconoscere qual è la vera religione e la devono difendere certamente devono tollerare gli altri culti tollerare ma non porli sullo stesso piano e anche da qui con questo personalismo con questo antropocentrismo che si arriva spiega sempre padre Menville la morale individualista o della situazione quindi se io come persona dopo aver fatto discernimento nella mia situazione ritengo che non possa tornare indietro nella mia situazione di peccato non possa tornare indietro o mi trovi bene appagata in questa situazione pur imperfetta non si dice di peccato ma imperfetta allora posso restare in questa situazione questa è la tesi all'ultimo errore che è quello che gli accomuna tutti i progressisti il rifiuto di un ordine sociale cristiano un progressista che è stato perito con segnale padre Dominique Chenou infatti rifiutava la dottrina sociale della chiesa perché la riteneva divisiva perché la chiesa non deve avere un suo ordine proprio sociale se vogliamo temporale non deve avere una sua propria civiltà infatti quante volte sentiamo dire basta con la chiesa costantiniana basta con la chiesa medievale infatti perché si rifiuta il tomismo perché il tomismo il pensiero di San Tommaso la filosofia perenni si è stata il vertice il culbine del medioevo cristiano cattolico diciamo in sintesi che ciò che hanno in comune tutti i progressisti è che vogliono andare oltre il cattolicismo insomma viene praticamente dato a un periodo storico della chiesa che va da Costantino fino al concilio di Trento o anche diciamo fino diciamo alla presa di Porta Pia danno un significato teologico a un periodo storico della chiesa questi sono gli errori comuni del progressismo cristiano Giovanni Paolo II veniva dalla corrente personalista quella di De Lubac Congare e Manitè Benedetto XVI come racconta lui stesso nella sua autobiografia delle ultime conversazioni con Peter Sevald era appunto per la teologia del ritorno alle fonti di lasciare San Tommaso per tornare alle fonti cioè i padri e la sacra scrittura questo per spiegare insomma che effettivamente anche Giovanni Paolo II e Benedetto XVI a cui comunque noi siamo molto molto legate io e Dorotea perché hanno comunque amato e difeso la chiesa e il pensiero cattolico comunque venivano da quel progressismo conservatore ma sempre progressista e questi sono gli errori del progressismo cristiano avremmo voluto leggervi anche qualche cosa che ha scritto il padre Minville davvero veramente edificanti che aiutano a capire tante cose ma per il momento non vogliamo riempirvi troppo insomma con altre informazioni bastino bastino questi per il momento e poi faremo anche una terza parte di questo identikit del cattoprogressista questo suo scritto padre Minville nella prima parte ha elencato gli errori del progressismo cristiano che sono questi quello fondamentale che è il rifiuto della società cristiana della società cristiano cattolica in un certo senso per vi traverse della stessa chiesa nel concilio vaticano secondo è stata cambiata l'ecclesiologia nella seconda parte di questo scritto il padre Minville parla delle false basi del progressismo e perché la tentazione filocomunista del progressismo cristiano e le conseguenze del progressista cristiano in particolare ha individuato in questo suo scritto del 1965 il padre Minville quattro pensatori che hanno influito tantissimo sulla testa di tanti sacerdoti di tanti filosofi di tanti teologi Lamene Maritaine Mugnier Tegliade Cerdin il padre Minville nella terza parte conclude con un capitoletto intitolato il progressismo nel concilio vaticano secondo ricordando che il concilio vaticano secondo non era ancora terminato anche se era il suo ultimo anno quando il padre Minville ha scritto questo testo sul progressismo cristiano però si può dire che tutto ciò che il padre Minville ha scritto in questo testo del 1965 e che poi elle riprese e approfondì nel suo libro intitolato della cabala a progressismo speriamo insomma di avervi aiutato a comprendere un po' meglio a identificare un po' di più il catto progressista perché come spiegavamo nella prima parte molti si possono ritrovare ad essere progressisti neomodernisti senza rendersene conto perché è proprio un pensiero veramente subdolo bene vi salutiamo e vi ringraziamo per averci ascoltato vi raccomandiamo di leggere anche la descrizione qui sotto al video di cliccare anche sui link e di commentare argomentando grazie Laudetur Jesus Christus Ave Maria